Con il decreto Cura Italia viene elevato l'importo massimo delle operazioni di microcredito imprenditoriale che passano da un massimo di 25.000 euro a 40.000 euro. Sono interessate le imprese già esistenti e costituite e i professionisti che abbiano già aperto la propria partita IVA. Per entrambi i casi non vi può essere un'anzianità superiore ai 5 anni. Abbiamo intervistato per Occhè Italia Parliamone sull'argomento assolutamente importante il presidente dell'ente nazionale del microcredito Mario Baccini. Andiamo a vedere il video. È una crisi economica, è una crisi sociale, è una crisi finanziaria e credo che da questa crisi potrà nascere una speranza. Oggi le condizioni non sembrano a noi favorevoli. Covid-19, questa infezione ha messo in ginocchio l'economia mondiale, non solo l'economia europea e nazionale. Noi del microcredito, dell'ente nazionale del microcredito, stiamo operando affinché tutte le microaziende, e voglio ricordare che le microaziende in Italia rappresentano la colonna portante del nostro Paese, perché rappresentano oltre il 90% non solo della forza lavoro ma anche del fatturato nazionale. Quindi dobbiamo intervenire per sostenere questo settore, non solo la grande industria ma anche il settore delle microaziende. A questo proposito il governo ha adottato dei provvedimenti che vanno da una parte a sollevare tutte le microaziende che sono nate grazie al microcredito da anche una situazione di difficoltà iniziale da sollevare queste aziende dal pagamento dei mutui che sono stati contratti qualche anno fa. Questo già è una buona notizia perché consente loro di non avere ovviamente oneri in questo momento di crisi. Dall'altra parte aumentare il microcredito da 25 mila euro a 50 mila euro. Questa misura ci consentirà di sostenere e dare liquidità a tutte quelle aziende esistenti che dovranno ripartire, ma soprattutto daranno forza finanziaria alle aziende nuove che nasceranno grazie al microcredito. Volevo ricordare che in questi provvedimenti del governo noi auspichiamo che ci sia da qui a breve su nostra proposta anche il microcredito sociale, cioè un microcredito che sostenga le famiglie e non solo le famiglie ma anche le persone che hanno difficoltà di liquidità per i primi per i generi alimentari, per i prodotti sanitari. Ecco fino a 5 mila euro possiamo intervenire perché in questo momento ci risulta che ci saranno e ci sono persone che non hanno possibilità di liquidità per acquistare i bedi di prima necessità. Ecco un intervento in questo senso sarà opportuno per l'Italia, per l'economia nazionale, ma soprattutto per tenere in piedi il tessuto sociale. Ringraziamo il presidente dell'internazionale del microcredito Mario Baccini per il suo intervento, per aver contribuito a fare chiarezza su questo importante strumento per il rilancio dell'economia del nostro paese. Appuntamento con voi per i prossimi approfondimenti. A presto.